aspetta che se no non lo trovo più un bel tubetto avanti avanti prossimo giro vediamo se tiriamo fuori un altro tubettino non un tubetto ma un tubettino un pozzo di alluminio un tubetto che c'è una filettatura qua anche al prossimo questo è un po sporco come segnale ma scaviamo lo stesso non è una schifezza aspetta che vediamo sparito ogni tanto si perdono le lettere ma che grazie è che è sparito niente niente ti ho detto che era sporco ma non pensavo così sporco niente più andiamo avanti pepe sì andiamo avanti morto vediamo se questo qua lo troviamo come quello di prima si perde un bel pezzo di alluminio bello che suonano tutti bene questi qua perché chiaramente l'alluminio suona da dio tocca pure scavarli tutti avanti questo è superficiale un altro pezzettino di alluminio tappi vediamo qua siamo entrati un po dentro un po di più dentro il campo un po' un piccolo aspetta un momento credo una lira abbastanza bene una diretta in alluminio del 54 e vedi che vedi la zona vieni qua sto giro mi tocca dare ragione al cameraman una lirettina bene dopo 6 mila immondizie alluminio no tocca scavare tutto andiamo avanti vediamo se facciamo il bis con un'altra molettina che siamo a 50 centimetri da dove eravamo prima sparito il mistero della fede ho sbagliato a fare il cuore mi sembra strano si perché suonava bene ho sbagliato a fare il buco era qua cazzo però se sei senza pinpointer già non lo trovi con questo che cazzo è? questa roba qua più piccola vedi se è quella che suona? si si è un pezzo di una forcina per cappelli vedi? ah si vabbè ti credo che non la trovavo cazzo di moscerini vabbè vabbè un altro pezzo microscopico più piccolo anche questo pezzettino di ferretti di alluminio microscopico e andiamo avanti qua sotto il prezzemolo andiamo al prossimo giro un altro segnale disturbato ma superficiale che cazzo è? un po' piegato non ne ho idea un anello è troppo grosso cioè a me starebbe anche non lo so se è un anello cazzo però da dito grosso ho i miei dubbi comunque vi faccio vedere adesso aspetta adesso vi faccio vedere l'anello dei giganti che l'ho trovato stamattina questo qua è un anello dei giganti ci vanno due dita dentro non so cosa sia però ha la forma di anello spiace? bellissimo guarda lo vuoi? ma anche no vabbè allora niente dai ci vediamo al prossimo giro dai ciao un altro segnalino superficiale andiamo dov'è cos'è? non ne ho idea c'è una specie di di due ruottine dentate non so cosa sia una spada per gli nani per uno spadino ma è tutta roba piccola indesivrabile non lo so un ingranaggio di qualcosa andiamo avanti andiamo avanti vediamo qua cosa abbiamo una porcheria con un altro bel tappo dove è andato? non so là là guarda il mio dito non lo vedevo destilleria andiamo avanti fatti bravi ci vediamo al prossimo ciao